Benvenuto nel canale Volantino Nuovo, qui puoi trovare tantissimi video per il tuo shopping. Quindi valuta di iscriverti al canale grazie della visione e buona giornata! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Promozioni con omaggio! Acquistando due prodotti Vapo, un buono sconto da 2€. Con due prodotti Winnie's di cui uno lavatrice, un ammorbidente in omaggio. Lines's con 5€ di prodotti, 5 buoni sconti sul tuo prossimo acquisto! Seisol, acquista un solare e avrà in omaggio un doccia rinfrescante. Termolab, acquista un solare e avrà in omaggio la maschera dopo sole. Con due prodotti Bilboa, un mini dopo sole per te! Nivea, nivea con 15€ di prodotti Sun, ricevi la borsa mare. Acqua Fresh, con 3 dentifrici, uno spazzolino in omaggio. Florena, con l'acquisto di 15€ di prodotti in regalo l'Hydrovaso. Sensodyne, con l'acquisto di 2 prodotti, un campione di Sensodyne Fresh Cleaning. Cleanians, con l'acquisto di una crema viso Hydra Plus, subito per te lo stick labbra. Con l'acquisto di 2 colorazioni, in omaggio una palette base o ritocco. I Provenzali, con l'acquisto di un prodotto, subito per te una bottiglia d'acqua Sant'Anna. Bulldog, con l'acquisto di un prodotto, subito per te regalo il pettine da barba. Geomar, con l'acquisto di un prodotto in offerta, in omaggio la versione da viaggio del Talasso Scrub. Sperando che questa piccola novità vi abbia fatto piacere, vi ringrazio della visione e come sempre vi auguro una buona giornata! Sperando che questa piccola novità viaggio del Talasso Scrub.